Cinzia Tedesco, di te ho letto che subito dopo l'università, dopo la laurea in informatica, arrivi a Roma e lì nasce ed esplode la tua passione per il jazz. Come lo vivi adesso in questi territori come Teggiano? Teggiano ormai è un centro della grande musica. Il Festival Jazz di Teggiano è un punto di riferimento ovviamente della zona, per cui mi trovo assolutamente a mio agio, a casa, oserei dire. Mancavo da un po' di anni, però sono felice di essere tornata. Nel tuo repertorio primeggia soprattutto la passione per Bob Dylan? Questo è un progetto dedicato a Bob Dylan, poi il mio escurso si è abbastanza variegato, perché sono passata attraverso molte collaborazioni con grandi orchestre, quindi i tra virgolette repertori li ho sempre vissuti a modo mio con grande passione. Ecco, sinceramente forse è il vivere con passione quello che faccio, che mi caratterizza più che quello che faccio. Teggiano cosa ti lascia da questa esperienza? Teggiano ha un carisma particolare, forse per questo che è stata riconosciuta come centro fondamentale della cultura, alla fine dei conti, insomma riconosciuta a livello internazionale, quindi è una cittadina assolutamente magica ed è un'atmosfera giusta per il jazz.